Il mare si mangia la spiaggia e oggi si fa la conta dei danni. Le immagini sono quelle della litorania di Torre del Greco dove le forti mareggiate di ieri hanno causato non pochi disagi. Criticità si sono registrate soprattutto nel primo tratto del litorale, con danni anche agli stabilimenti balneari come testimoniano le riprese. Un problema legato anche alla mancanza in quel tratto di scogliere di protezione, poi la furia del mare con onde altissime ha fatto il resto. Su tutta la campagna, così come annunciato dalla protezione civile della regione, che aveva diramato un'allerta meteo arancione, ieri si sono abbattute infatti piogge torrenziali con grandine e forti raffiche di vento. Non sono mancati disagi a Napoli e provincia, in particolare a Torre del Greco, i volontari sono intervenuti per prestare soccorso ad alcuni automobilisti in difficoltà in via De Gasperi e in alcuni sottopassi che in caso di forti piogge puntualmente si allagano. All'indomani della forte ondata di maltempo non manca l'amarezza, soprattutto per i titolari dello stabilimento.